Buon pomeriggio, sono Antonietta Rizzotti dell'ufficio stampa di Top Doctors. Oggi siamo in compagnia del dottor Antonio Frisina, primario di Otorino Laringoiatria e punto di riferimento a Vicenza e Valdagno. Oggi parleremo della malattia di Menier. Buon pomeriggio, dottore. Buon pomeriggio a lei. Iniziamo con le domande. Quali sono i sintomi tipici della malattia di Menier e come si distinguono da una semplice vertigine? Dunque, innanzitutto la sindrome di Menier è una sindrome che prende il nome dal medico che l'ha inquadrata, cioè Prospero Menier, si caratterizza per quattro sintomi, che sono la ipocusia, cioè la sordità, che è associata anche all'orecchio pieno, la pienezza auricolare, e alla presenza di un fischio, di un rumore, di un acufene, associato inoltre poi al sintomo più fastidioso, la vertigine violenta, cioè il paziente vede girare il mondo intorno a sé, ha nausea, vomito, vertigine che dura da diversi minuti fino a delle ore in maniera persistente. Il paziente praticamente non riesce a fare più nulla, rimane sul letto, perché ha nausea, vomito, gira tutto il mondo. E questa vertigine purtroppo può avere un'insorgenza veramente molto variabile ed è il sintomo che più affligge i pazienti affetti da questa malattia di Menier. Poi esistono ovviamente delle varianti, cioè ci sono pazienti che hanno solo la sordità e l'orecchio tappato, questa sordità fluttuante, o pazienti che hanno solamente la vertigine. Ma queste sono delle varianti cliniche. La vera sindrome di Menier si associa con questi quattro sintomi, la vertigine violenta, la sordità che poi recupera nelle prime fasi della malattia, quindi si parla di sordità fluttuante, l'orecchio tappato e il fischio, il rumore all'orecchio. E quali sono le cause legate alla malattia di Menier e quali fattori che possono contribuire al suo sviluppo? Ma guardi, la causa non è ben conosciuta. Quello che è conosciuto è il meccanismo. Cosa succede? Succede che l'orecchio contiene, l'orecchio interno, che ha la funzione sia di sentire ma anche la funzione di mantenere l'equilibrio, contiene dei liquidi al suo interno. Questo liquido prende il nome di endolinfa e perilinfa. Il meccanismo che scatena la malattia di Menier è l'eccesso, un eccesso di endolinfa che gonfia l'organo dell'equilibrio e dell'udito, gonfiandolo stimola i recettori dell'udito e dell'equilibrio e questo va da sé, scatena proprio dei sintomi legati all'udito, quindi la sordità fluttuante e l'acufene, cioè il fischio, e i recettori dell'equilibrio, quindi la vertigine molto violenta che il paziente lamenta. I meccanismi che causano questo eccesso di liquido sono i più svariati, in realtà non è stato proprio dimostrato cosa scatena questo eccesso di liquidi, si parla di cause endocrine, congenite, traumatiche, infettive, allergiche, neurovegetative, a volte associata anche all'emicrania, quindi si sa qual è il meccanismo ma cosa lo provoca non è ancora molto chiarito. Dottore quali sono le opzioni di trattamento disponibili oggi per gestire la sindrome di Menier e quali sono i potenziali benefici e rischi per il paziente? Allora la malattia di Menier innanzitutto si comincia a trattare con dei farmaci, con una terapia medica. Esiste però due tipi di terapia medica, la terapia dell'attacco acuto, quando il paziente sta male, dove diamo dei farmaci per ridurre i sintomi, cioè la vertigine, cioè la nausea, ridurre il vomito, perché sono i pazienti che stanno male, stanno molto male, per diverse ore, e differenzio dalla terapia medica che invece serve a prevenire le crisi, che si basa sull'uso di per esempio farmaci diuretici per ridurre, per smaltire i liquidi, a volte cortisonici nella fase iniziale, anche la betestina cloridrato, per non fare nomi commerciali, che pare sia l'unico farmaco dimostrato che aiuta a prevenire e quindi anche a curare la malattia di Menier. Questo segue poi nelle fasi invece più avanzate, quando la terapia medica non riesce a controllare i sintomi, anche una terapia chirurgica della malattia di Menier, e qui però lo riserviamo a quei pazienti che hanno delle crisi che non possono essere più controllate dalla terapia medica, che adesso entriamo in termini un po' sofisticati, comunque si parla sia di una terapia che conserva l'udito, come la chirurgia del sacco endolinfatico, oppure una terapia che per essere più chiari e semplici, che distrugge l'organo dell'equilibrio, che si può fare sia con delle iniezioni di un antibiotico tossico per le cellule d'equilibrio, che è la gente amicina, e sia arrivare anche a, con l'intervento chirurgico, a distruggere la parte dell'orecchio che è deputata all'equilibrio, si parla di labirintectomia chirurgica, o sezionare il nervo dell'equilibrio, cioè la neoreptomia vestibolare, ma questo per fortuna, queste procedure sono riservate solo a una piccola, piccola, ribadisco, piccola percentuale di pazienti in cui la terapia medica non funziona. E attraverso quali test o prove può essere confermata la sintoma di Meniere? Certo, ma guardi, la malattia di Meniere innanzitutto è una diagnosi che si basa sull'anamnesi. Dicevo prima, Prospero Meniere, il medico che ebbe questa intuizione, parlava di quattro sintomi, quindi il paziente deve avere questi quattro sintomi per parlare di malattia di Meniere, cioè orecchio tappato, solidità, fischio all'orecchio, vertigini, non che durano un secondo, ma devono durare da svariati minuti, 20-30 minuti ad ore e non basta un episodio, devono essere più crisi di vertigine ripetute nel tempo per poter arrivare a una diagnosi che, come dicono gli americani, certa di malattia di Meniere. A questo ovviamente si associano poi gli esami strumentali, l'esame dell'udito per esempio che dimostra che la sordità migliora dopo la crisi, che poi peggiora, quindi è una sordità fluttuante, insieme ovviamente all'esame vestibolare, all'esame otoneurologico, se si ha la fortuna di vedere il paziente durante la crisi si possono cogliere i segni clinici della crisi, perché è superata la vertigine, chiaramente il paziente non ha più vertigine, non troviamo più quei segni clinici e fino ad arrivare ovviamente ad esami e indagini neuroradiologiche che sono l'attacca dell'orecchio e la risonanza cerebrale. Però diciamo che il primo elemento diagnostico è la presenza dei sintomi con queste caratteristiche, vertigine che durano ore, ipocusia fluttuante, orecchio tappato, fischio e poi seguono tutti gli esami strumentali. Qual è il ruolo dello stile di vita e delle modifiche dietetiche nella gestione di questa sindrome e nella prevenzione delle sue ricadute? Direi che è fondamentale lo stile di vita, è stato dimostrato che la dieta povera di sale e ricca di acqua è molto utile nel controllare la malattia, evitiamo caffè, evitiamo alcolici, lo stress è anche un fattore che favorisce le crisi vertiginose, l'uso della carenza di vitamine ha un altro fattore favorente, gli squilibri ormonali, quindi è chiaro che una dieta equilibrata, uno stile di vita equilibrato ci aiuta a controllare questa malattia che è veramente molto invalidante per il paziente, per cui evitiamo abusi, cerchiamo di mangiare sano e soprattutto poco salato, questa forse è una nota dolente, bisognerebbe rinunciare molto al sale che pare avere un effetto, l'eccesso di sale, mangiare troppi salumi, mangiare tutto ciò che è ricco di sale può favorire la crisi di vertigine. Diciamo che questa è una regola generale che si dovrebbe applicare nella vita di tutti i giorni. Non è facile purtroppo ma... Dottore io la ringrazio molto per il suo intervento e colgo l'occasione per ricordare ai nostri utenti che è possibile richiedere una visita presenziale o con telemedicina con il dottor Antonio Frisina attraverso il suo profilo disponibile sulla piattaforma Top Doctors. Arrivederci dottore. Grazie a voi, arrivederci. Grazie.